Risotto agli asparagi e salsiccia. Un gustoso risotto agli asparagi e salsiccia, preparato con il riso carnaroli e accompagnato da una salsiccia saporita. Il piatto ideale per una cena in famiglia o tra amici. Per la preparazione del risotto si inizia lavando gli asparagi e tagliandoli a rondelle sottili. In una pentola si fa rosolare la salsiccia tagliata a pezzetti, e a questo punto si aggiunge il riso. Una volta tostato il riso, si sfuma con il vino bianco e si inizia ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta. A metà cottura si aggiungono gli asparagi, e si porta a cottura il risotto. Si insaporisce con una noce di burro e del parmigiano grattugiato. Ecco i passi da seguire per preparare un ottimo risotto agli asparagi e salsiccia. Lavare gli asparagi e tagliarli a rondelle sottili. In una pentola far rosolare la salsiccia tagliata a pezzetti. Aggiungere il riso. Sfumarlo con vino bianco. Aggiungere un mistolo di brodo caldo alla volta. A metà cottura aggiungere gli asparagi. Portare a cottura il risotto. Insaporire con burro e parmigiano. Il risotto agli asparagi e salsiccia è pronto per essere servito.